c'è una margherita nel mio futuro infatti in tutta la mia vita ho tenuto in braccio un bambino poco dopo la sua nascita messo nelle mie mani da suo padre una sola volta sembra incredibile vero che sono arrivato a 76 anni e solo una volta in vita mia mi è stato messo in braccio un bimbo dicendo tienilo un po tu si tratta di margherita l'ultima nipotina di mio fratello benito un giorno me la consegnò e mi disse tienila un po tu nelle tue mani ed è stata la prima volta in tutta la mia vita che io ho potuto tenere un bimbo nato da poco nelle mie mani io ho una storia che riguarda le margherite il primo libro che scrissi nel lontano 1976-77 si intitolava margherite impossibili e riguardava quella capacità di creare un prato di fiori in una persona brillantissima capacissima quando aveva vent'anni e dopo un giorno ebbe per la la moda che ricorreva in quel tempo di provare la psicoanalisi era di moda e ella atea provò a mettersi nelle mani di qualcuno che potesse seguire l'armonia della sua anima trovò un bravo psicologo e dopo un anno le disse è inutile che lei continui a venire qui da abbiamo concluso ma lei che non aveva fede e aveva la necessità di mettersi nelle mani di qualcuno allora cercò chi potesse sostituire questo valido psicologo che le aveva detto che non c'era bisogno di una figura come la sua nella vita di lei e lei si trovò proprio un bravo psicologo che io chiamai il colle vecchio se non mi ricordo più nel libro che scrissi che fece di questa persona una soggetto così succube che dopo una ventina d'anni di terapia l'aveva interamente asservita al suo giudizio nei confronti di ogni iniziativa da assumere nella sua vita cercava una figura così in cui rifugiarsi e finalmente l'aveva trovata una figura a pagamento che nel giro di 20 anni praticamente le costo quasi come l'acquisto di un piccolo appartamento io incontrando questa persona cercai di salvarla di liberarla da questa dipendenza e scrissi questo libro proprio di un prato su quale le margherite non potevano fiorire liberamente c'era bisogno di quel giardiniere che esercitasse il suo triste e tristo compito una prima della classe che a poco a poco diventa incapace di atti liberi se prima non ha l'avallo è una condizione umana tanto resa prigioniera che veramente io cercai di ribellarmi contro ciò e misi in gioco la mia vita pur di riuscirci dovevo sostituire a lei chi la liberasse ma visto che lei cercava proprio quel collegamento profondo che chi finisce in terapia stabilisce con il suo psicologo aveva bisogno di un amore solo esso era in grado di produrre questo miracolo e per cercare di darle questo amore io distrussi quello che esisteva nella mia famiglia in quel tempo avevo scritto anche una poesia che rendeva bene questa idea di un campo di margherite che sono messe così allo sbaraglio e spesso incontrano una cattiva fortuna vi leggo questa poesia intitolata appunto margherite il prato inglese sotto casa mia approfittando e del novello sole e della pioggia dell'aprile sia d'un tardar del taglio che si vuole frequente mostra tanta frenesia di vivere che non trovo parole per poterlo descrivere allegria di colori vivaci e nelle aiuole è tutto un su e giù di erbe e fiori un letto di infinite margherite nate in un giorno sol buttate fuori d'incanto e meraviglia e vi intristite già è presso l'uomo che riprende i lavori farà un pugnetto di erbe avvizzite e a questa poesia avevo dato un seguito che ora io vi leggo se lo riesco a inquadrare ecco qui se non la tagli l'erba già fiorisce s'allunga e cresce tutta rigogliosa ma ai primi caldi di colpo appassisce se invece falci il prato senza posa butta in profondo e presto s'arricchisce di nuovi steli e forza vigorosa di radici gagliarde chi capisce com'è non s'arrende ad ogni cosa stroncata anche se posso capire che è più dolce gustar sorrisi e canti di vittoria che vederti soffrire anche se pensandoci tutti quanti anche quelli che mai potresti dire se non hanno guai se li pongono davanti ecco in questa storia c'è la storia di queste margherite di cui io vi sto parlando infine c'è stata una terza situazione in cui sono comparse di nuovo le margherite nella mia storia personale è stato quando un giorno abitavo ancora assieme a mia madre in piazza cuoco numero 8 a milano e camminavo con mamma lungo un giardino che si trovava lì nei paraggi e stavo dicendole mamma vedi ora siamo restati qui soli io e te sembriamo abbandonati da tutti camminiamo qui da soli ma sai sembra così ma non è così la nostra vita qui la mia e la tua che sembra una povera vita di due persone restate sole è al centro di una vita grandiosa che noi non ci accorgiamo ma esiste qui tutta intorno a noi e fu in quel preciso momento che una ragazza che veniva incontro a noi ci fermò e stabilì un incontro repentino con mia madre e me la ritrovammo subito dopo aver fatto fatto un giro così per le strade vicine a casa in un bar in cui io e mamma c'eravamo rifugiati proprio per prendere qualcosa da bere era lì ancora e venne al nostro tavolo e si fermò a lungo a parlare con noi interessandosi della vita di mamma dimostrandole simpatia dimostrandole amicizia io mi legherò con questa persona in un affetto interamente dato da parte mia e ritenuto da parte sua essendo una persona piena di lanci ma irretita ella pure in una sua condizione dalla quale cercava una salvezza senza tuttavia riuscirvi aveva una giovane figlia che dipendeva da lei abitavano insieme e lei aveva un rapporto con un amico che spariva ricompariva e quando ricompariva erano sorci verdi perché lui la menava come si suol dire e lei si era più di una volta adoperata per liberarsi da questa dipendenza ma non ci riusciva e poi c'era ancora un'altra persona che orbitava attorno a lei dalla quale lei dipendeva per altri versi e neppure in questa condizione lei riusciva a liberarsi ancora una volta io cercai di adoperarmi lei scriveva poesie come l'altra di cui vi ho parlato prima essa pure è una poetessa e allora cercai di portarle in dono una pubblicazione nella quale io raccorsi tutti i suoi versi e che pubblicai e che era incentrata essa pure sulle margherite il fiore preferito da questa persona margherita per me dunque ha assunto proprio il significato di un fiore che sorge spontaneo che non è coltivato da la mano dell'uomo ma spesso la mano dell'uomo si mostra violenta contro questo fiore e cerca di falciarlo cerca di ridurlo a povera cosa togliendogli la vita togliendogli la spontaneità della sua esistenza ecco io incontrando questo fiore ho incontrato tutto ciò e ha preso forma reale in vere e proprie persone quando è nata la mia ultima nipotina e mio fratello le ha dato il nome di margherita e ha messo la piccola margherita nelle mie mani io ci ho visto un grande segno legato al futuro di questa mia nipotina che io saluto sapendo che nel futuro questo saluto che io rivolgo a lei che è ancora troppo piccola per apprezzarlo sarà finalmente apprezzato e la mia piccola margherita diventerà molto importante per tutto ciò che riguarda questo suo prozio nelle cui mani un giorno la bambina è stata consegnata dal suo papà o ciò le usi no ciò ciò